Montevideo per due giorni capitale della Cannabis. A un anno dall'approvazione della legge che ha depenalizzato produzione, vendita e consumo di marijuana, la capitale uruguaiana ospita fino a oggi Expo Cannabis. La manifestazione con stand espositivi e un programma di conferenze, laboratori, eventi musicali e dibattiti intende diffondere informazioni su potenzialità mediche, terapeutiche e industriali della canapa. Grazie